Continuano le buone notizie per quanto riguarda la presenza del Covid-19 in Sicilia. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio si è registrato ancora un netto calo delle nuove infezioni, la media di nuove positive di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positività più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina e Palermo. Secondo i dati contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. L'epidemia rimane in una fase delicata con un livello ancora significativo di diffusione virale, ma con una ricaduta sulle nuove ospedalizzazioni più contenuta rispetto ai periodi precedenti. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nell'isola, i dati sono aggiornati al 7 febbraio. Nella fascia dei 5 agli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono il 23,69% della media regionale, sono il 20,36% i bambini che risultano vaccinati con ciclo primario completato, mentre le persone che hanno completato il ciclo primario risultano essere l'89,59%. In particolare, i vaccinati con la dose booster sono il 72,38% degli aventi diritto. In Sicilia sono state effettuate complessivamente 240.503 somministrazioni di quarta dose, di cui 211.704 a soggetti over 60 e 8.824 quinte dosi.